Guarda, ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro, stiamo lavorando ogni giorno, fianco a fianco e devo dire che più lavoriamo insieme, più risolviamo problemi per l'Italia e anche quelli che possono nascere intorno alla coalizione. Poi c'è sempre questo racconto per cui quando Salvini fa una cosa, la fa per fregare me, quando io faccio una cosa la faccio per difendermi dalle fregature di Salvini. Questa è una narrazione che io non vedo in un rapporto in cui ci sentiamo ogni giorno, ma che dico ogni giorno? Dieci volte al giorno. Abbiamo un modo di portare avanti questa maggioranza che è soprattutto legata alla fiducia e credo che nei prossimi mesi ancora di più questo rapporto si rafforzerà. Io non ho ragione di dubitare di lui come lui non ha ragione di dubitare di lui. Però qui in Sicilia abbiamo visto gli elementi politici.